Io volevo pregarsene alla fine che sto facendo il santo potere qua Ah, certo Questa mi beve tutta disengage, ragazzi, ne ha BV del 10 Ma proprio ok la controfiola, non è che non la counter La guglia, boom Oh, cazzo Buon regallo, ho preso due stacchi di grasp, anche Remsa Ah, hm Ma io no, ho preso, forse è bello di prendere sto setup Ma il suo fiore regallasse Oh, oh, mi stanno migliorando, figa Se hai regallato perde tanto No, sotto la pozione, lei Perché se hai regallato Come cazzo si è pullata qua? Ma forse si è pullato al blu Buono Comunque Sto matchup è abbastanza facile da giocare Vital davanti Q davanti a voi Mi sembra abbastanza Ma la ripunto anche l'acqua con il flash Lei c'eva lei o sbaglio? C'eva lei e lei? Micca, non ho visto, ma sa che c'eva le app, però Oh, cazzo Non me so concentrare Cioè, in realtà, mi sembra che è così stupida Ma infatti non ho mai iniziato dietro Ah, ha sblocato l'aria Comunque, va già tippato Ho perso il cannone, tutto Minchia In quel cannone Me l'hanno proprio Scampizzato SS Jackie94 con il sub Con Twitch Primo mese Jackie, benvenuto Nelle cani cani Grazie mille del supporto, bro Grazie mille del supporto, mate Oddio, ho trollato Grazie mille, Jackie You're welcome Ho qua trovato io E tanto non gioco pop Mi dovrebbe do un po' a tutto Questa è la combo migliore di pop Vedete Vi ricordo che io ho il tp up le no Un po' a tutto Fine Vaca boia Nice Abbiamo vedata qua Su quello scudo Allora qua possiamo scegliere varie cose ragazzi Ora vi faccio una domanda a voi Vediamo se Cosa prendiamo Bami Cinder O Brumble West o Ninja Tubby Cioè abbiamo varie scelte Cosa possiamo prendere secondo voi Normalmente sarei andato di Bami Cinder Ma visto il team che hanno loro Andrò di Ninja Tubby Visto che hanno anche il jungler Che potrebbe essere un problema per noi Prendiamo mobilità Hanno lesi in giungla Se avessero tu un jungler Tanki o O Diciamo comunque non a D Avrei preso sicuramente Tra la Brumble non è che mi serva troppo Io L'ho già killato Sono già avvantaggio rispetto a lei adesso Giusto? Dio dove ho sbagliato Mettere Molto potete usare bene la passiva di Poppy È la cosa principale di questo champion Allora si va Infatti mo sbaglio purtroppo Per usarla quando La wave stava andando a sottotore Però È ok Allora si sta andando a sottotore Lei non si aspetta Sono i miei danni che c'ho io adesso Ho trollato qua in realtà Ho giocato malissimo Però comunque non c'ho la Q-Up Però ho giocato veramente male No non possiamo prendere un'altra plate Ricaldiamo Adesso Oh cazzo Tengo il mana per la W Never mind Vabbè abbiamo fatto self flash a Triss Il mana lo soffriamo per Niente tanto Però credo che andrò a di Allora la brambola è forte Però Voglio un item Che mi permetta di Troppo importante Che mi permetta di avere pressure Come ha fatto l'isene A pushermi la wave Si è fatto pure di danni Waste Shin per il Gauntlet Ci ho pensato a fare la Shin Il problema è che tanto Fiore non c'è più che mi ottescalerei Anyway Quindi non so se sia worth In realtà a beltare Gauntlet In realtà è il grasp Però no Non credo sia worth Builderò Sunfire Cape Poi magari Brumble West Comunque vediamo È molto behind lei L'isene anche Posso il flash Quindi veramente worth Dica Lassatevi nel sub E benvenuti Con le gagne di gane Buono Vedi qua Ho usato l'WV Senza che Non dovete usare Per forza l'WV Per forza Per bedare la Q Ok la potete usare Anche per non farvi fare la Q Addosso Max Fiel con tier 1 5 mesi di resab Questo è veramente brutto Grazie mille Sfilleri Benvenuto nei gagne di gane Bro Grazie mille del supporto Bro 5 mesi di tier 1 You're welcome back Ma che danni Sì sì Prendo una plate E qua arrivo Devo usciare pure Stavore Se poi aiutano nulla Però Per via del tipi di fiore Esatto Ma non c'è bisogno Del mio aiuto Recallo Lo recallerò Abbiamo Un ottimo item Ottimo item Veramente Possiamo andare anche Di Brumble West Credo che sarà Quello che farà Infatti Credo che Più di Rage in West La Brumble West Si è un item Perfetto In questo matchup Decisamente molto Conto strong E andiamo di Sunfire Ora L'item Con il mana A Poppy Mana e Coldana A Poppy serve Quindi il Gauntlet Per Poppy Veramente buono Proprio per questo motivo Perché ti dà mana CD Una passiva molto forte E armor Quindi in realtà Potrebbe essere anche Un buon item Non credo come primo Controfiore Anche se è fine Però Stavola sta tiltata Perché ferola Col Grasp Perché è una fighetta Ci mettiamo qua Così se vuole fare la Q Itta da noi Ha itta il canone Vente? Tipo io la faccio a W A me non importa Se lei vuole usare La Q per scappare Capito? Cioè se lei la usa Non può usarla Se non può Cioè Ogni cosa che fa Per me è ok Usare la W La capito? Non la può usare Per scappare Uno E due Non la può usare Perché sennò muore Quindi uno Sta tiltata Ragazzi sono super head Che può fare? Abbiamo il TP up Vediamo se magari Riusciamo a usarlo Per fare qualcos'altro Comunque vedete Il gank di Sinnes Vi do ben cazzi Per dirvi L'ho abusata Spieghi molto bene Non avessi fatto oggi Il sub a The Game Lo farei a te Mate Fallo a Jacopo Che poverino Gli servono i sub Scherzo Io amo The Game Ragazzi Prendi Prendi il video Grazie mille Sì Deresab Che cazzo ho detto Perché? Dio Devo Siamo sotto torre È fine È fine Calma ma quando torni Master Mate Quello che sto pronto a fare Fiora mi leva la pink Bami e Doran's Blade Doran's Blade Sì Il tagline avremmo dovuto fare pure Treforce Sinceramente E la cosa buona con Poppy ragazzi Che vi invito a fare È Usate l'W Ok Usate l'W Trovate un'angolazione Che Fiora Non vi possa hittare Di Oh dai un po' Un'angolazione Quando usate l'W Che Fiora non vi possa hittare In un'attacca il Vidal Non so che ci siano Vision Tutti sono regallati Andrò a botti io Quindi Doran's Blade Potrebbe essere un ottimo start Un ottimo back Buonasera Suriant Regaliamo Sì con GameHug È una piattaforma Che ci avevo fatto un video Tempo tempo fa Infatti se fate punti Secondo GameHug Potete vedere il video È una piattaforma Che giocando a dei videogiochi Potrete ricevere Dei punti E poi questi punti Potete essere sferiti In qualsiasi cosa In account Minecraft In RP Comunque Non serve del tempo Però si può fare Io ci ho fatto tipo 150 RP Quindi Ragazzi scusate di ignoranza Ma quindi Conta Arrancare Anche se siamo in Precision? Tutto conta Mate Lino Smite Volevo ultare Volevo ultare Lulu Per killare Poppy Per killare Jinx Però fai Ma perché Ma perché con GameHug Ti sei allontanato Non sei più Sempre come una volta Non è vero Mehta Non è assolutamente vero Semplicemente Magari non facciamo Più 2Q Ma non è vero Cioè la nostra amicizia Non mi è cambiata Ve lo assicuro Non è mai successo Nulla tra di noi Sì è quello che pensate Martini visto che Sei tanto avanti È fattibile Sì si potrebbe fare La Triforce Però Sì però si potrebbe fare Tranquilamente È un ottimo item Su Poppy Oh grazie bro Penso fosse uno Vabbè L'ulti di Di Lulu Avrò guardato Sicuramente qua L'Uno Invece ancora Non ce l'avevo guardato Un'altra cosa E' molto importante E' fare la Q Q flash È molto molto good Come reset Nice nice Buon bait Regalo è tipo top Non voglio fare I brand obiettivi Anche se da poco C'è il mountain Il tuo team Ha distruttato Un'altra cosa Non c'è Ma non c'è È inutile che mi tratta qua Sì sì Io gli sto facendo Grande vita da apposta Ragazzi Non so se Yes C'era qui La sto facendo fare apposta Non ce l'avevo Una piccola Ah me Ovviamente Quindi fine per me Vediamo se possiamo Romare me Con un bel dive Non con un dive Forza Non con un dive Non con un dive Ecco 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 via Dobbiamo andare via Qua Fine TP fiola Va bene Gucci Andiamo a giocare Sull'herald Go herald Noi continuiamo a pusher Bot Buongiorno Prima ero ad esempio A parlare insieme A stream A fa video Ma se ci vorrei una volta Ogni tanto Ma non è vero Magari in streaming Come io ci parlo Un più vado con gli ago Ciao fluffy Ciao a destra Maltosio Io mi darei AP Per trovare il game Andiamo 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 a andare Comunque Poppi è veramente forte Come Tanks Non è il top tank Che c'è Come non uso Poppi faccio Grasp Dipende anche dal tuo Playstyle Non è che No Mate Chi ha stancato Gesù Mate Gesù ti ha dato Quei 10k Alla book Mate Cioè To be honest Io ti ho regrato Per la vita Grazie mille Teresab Lory Benvenuto Ne cani di cane Bro Grazie mille Bro Se legge bene Capisci tutto Sarà a tutti Il rosa Sono blu I mesi 17 Per se mi non c'è Gesù Boh Tu mi sono stato stancato XD Ha stancato Bestemmia Ancora Ah Bestemmia Ah ok Ti ha stancato Bestemmia Ancora Gesù Ok Vuoi cambiare Bestemmia GG Siamo in D3 Siamo in D3 Eh Liscio Prendevo Stimile dal bot Perché è veramente buono Quando ci sarebbe un up Potrebbero prendere sull'imminion Questo Andiamo a prendere quello Mid E dai però Regà Su U Uforreal Ancora ho avuto up questo Ce l'ha Lisi in flash Forse non avevo Dovevo flashare Dovevo flashare Regione verso sinistra Con fame prendere Lo stun di Jinx Poi siete figli di Potana Come è possibile che Lisin aveva l'ulti up Lui aveva l'ulti up E sono tutti i morti I miei Strana sta cosa Sinceramente Stavo facendo sto baron Che non è che adesso C'è di più Va Fine Tormele è veramente buona Comunque Che dà Capito Porca roia Nice air Nice flash Era per Jinx Il flash E l'ulti Bello Molto bene Molto bene Oh Lagiflo Ludo Parico Subito Appena si Si trova Sotto Dal buco Fra X Quanto Oh Subito Ma quella La crit come sta Messa Messa bene Fiddata All mid All mid All mid Maybe Maybe soul Soul first And all mid Go Souls Sembra Anche di essere Un po' tossico Prendi io Prendi io Via Via Se sono proprio di monopoli Lai mi ha pagato 10k Uppi Sir Miggy E benvenuto Le gagne di gane Boom Ma come ho fatto A prendere lo scudo Subito Sir Miggy Con il Subscrab E tre mesi di fira Sir Miggy Grazie Del supporto Bro Benvenuto Le gagne Arriba Le gagne Da una volta Porta Di ventiare Sulle slot Per ridere Mi sono Audio Iscluso Da tutti I siti Maite Non posso Ah lo scudo Era del monte Non del What Cioè se tu fai La norma Attacca Di poppi Sull'inibir Ti ridà Lo scudo Subito What Questa cosa Non la sapevo Cadenza saluta Non è il brocan Eh vabbè mate Quando puoi di nuovo Ma sinceramente Non mi va di riportare Magari vi riporterò Poca in streaming Ma le slot Non credo Che le riporterò Ma non mi dicevano Né più a me Di giocarci Vi dico la verità Vedo qualche volta Rochel Che mi fa bette 50 euro E basta Souls D Con 14 mesi Di resab Grazie mille Souls D